Abbiamo convocato una riunione con tutti i sindaci dei cinque comuni interessati. Questa riunione serve appunto per la verifica dei sistemi operativi e anche comunque per mantenere un assetto precauzionale per i prossimi giorni, perché come è noto, non essendoci la possibilità di prevedere gli effetti del terremoto e anche il susseguirsi delle scosse, per prudenza vogliamo mantenere comunque il sistema pienamente attivo.